Buongiorno ed eccoci insieme anche in questa settimana. Grazie per la linea. Io so che la settimana scorsa questa rubrica ha ottenuto un ottimo successo. Abbiamo avuto tante mail di approvazione per l'opera pubblica seconda soprattutto, ma oggi ne proponiamo un'altra. Noi proponiamo in questa rubrica i progetti per il futuro per valorizzare meglio il nostro territorio e per questo ci colleghiamo anche oggi con Voltaggio, con l'Appennino Genovese dove ci aspetta, eccolo qua, il nostro architetto Remo Forte. Buongiorno architetto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. No, non sono ingegnere, comunque grazie. Ragioniere. Ah, ragioniere, sì, ragioniere lo sono, ma è meglio non dirlo. Comunque sia, grazie per la sua presenza, io credo che anche lei abbia avuto i suoi riscontri in questa settimana. Eh, sono arrivate tante mail. Tante mail, esatto. E quindi ricordiamo che l'architetto Remo Forte, che è un po' la nuova generazione, il nuovo che avanza, potremmo dire, nel mondo dell'architettura. L'innovazione nel mondo dei carotaggi. Esatto. Io ho inventato la tecnica del carotaggio. Carotaggio. Del carotaggio. Ah, sì, perché lei è esperto di carotaggio, no? Siamo i fratelli a bagnale e io. Ma come? I fratelli a bagnale e anche a notaggio. Vabbè, comunque sia. Ma il discorso è che lei, appunto, subentra tutta una generazione di grandi architetti, Renzo Piano, per esempio Fuxas. So che con Fuxas lei ha lavorato spesso, no? Guardi, Fuxas è strano, però, eh? Sì. È strano, perché... Allora, lei pensi che gli ha chiamato per fare un lavoro nella sua villa di Montemoggio. Di Montemoggio, sì, è una villa, certo. Tu voleva fare praticamente questo poligono di Lancia Rossa. Poligono di Lancia Rossa? Allora, e io gli ho posentato questo poligono di Lancia Rossa e poi gli ho detto, scusa, Fuxas, e da quando è che non so come ti chiami, ti chiami Fuxas, scusa, ma i numeri facciamoli d'Ardesia, non di Giza. Ma sono un po' pesanti da portare dietro la schiena i numeri d'Ardesia, vabbè, comunque... Voleva fare di Giza, lui. Ah, di Giza, addirittura. Alla fine gli ho detto, guarda, facciamo così, il poligono te lo consegno, però poi i numeri si pensi tu. Esatto, esatto. E quindi i numeri li ha fatti. Però gli ha pagato il lavoro, sì, 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 sì. Sì, ora puoi guardare a vedere un po' i miei conti, perché sono un grande riconoscente. Senta, ma volevo sapere, appunto, lei è architetto, quindi ha fatto diversi master, diversi, no, lei ha avuto grandi riconosciuti. Master di carottaggio, sempre. Master di carottaggio, ha avuto anche molti premi, insomma, ha vinto molti... Perché presenta questi progetti un po' in tutto il mondo. Ho vinto questa sciarpa, le piace? Bellissima questa sciarpa, la scorsa settimana non l'aveva la sciarpa, come mai? Ho vinto a una lotteria di mainetto. Di mainetto, eh? Sì, perché tra l'altro è una lotteria solo per l'architetto, perché se tu vai in televisione devi aver lasciato. Eh beh, sì, gli architetti, sì, gli architetti. La cugina Carla, che c'è una merceria a Vobbia. Salutiamo la cugina Carla della merceria che le ha fornito la sciarpa e adesso che abbiamo fatto tutti i saluti agli sponsor possiamo andare anche... Merceria, l'elastico della mutanda si chiama. Come si chiama l'elastico della mutanda? Senta, volevo sapere una cosa, perché... Anche un ristorante, la vocanda dell'elastico della mutanda. Sì, ma guardi che qua ci tolgono la linea, dobbiamo andare al punto, perché il progetto di questa settimana è molto importante, mi sembra che lei voglia rilanciare turisticamente Chiavari, giusto? Ne ha bisogno, ne ha bisogno. Ne ha bisogno, certo. Tutto il territorio avrebbe bisogno. Poi ora bisogna anche vedere un po' anche i vicini, cosa c'hanno e copiarli, no? Ah, i vicini. Praticamente mi è venuta questa idea qua, l'altro giorno ero lì che guardavo il monte e ho detto cavolo, proprio così, ho detto proprio così, cavolo, cavolo, e mi sono fermato, no? Sì, ma faccia un po' più stringata questa cosa, perché siamo già... Ma perché tutta la giornata, comunque... Sì, vabbè, tutta la giornata, non è che ce lo può raccontare. Vedo questa, vedo la funivia di Rapallo, no? Sì. Cavolo che bella. Ah, la funivia che da Rapallo sale a Montallegro. Sì, a Montallegro, a Montallegro. Certo, la cattedrale, la nostra signora dell'orto, certo. E perché non ci devono avere anche loro una funivia, scusa, eh? E poi dico, c'hanno il mare anche loro quelli di Chiamari, c'hanno anche un porto, perché non c'hanno le navi da crescere lì davanti, come a Rapallo, no? Allora cosa dico, facciamo sbarcare i turisti a Chiamari, con le crociere, costruiamo una funivia che dalla marina di Chiamari va al santuario di nostra signora dell'orto, no? Ma scusi, ma è una funivia in piano, perché dal nostro signora dell'orto al porto di Chiamari non c'è una salita, non è in cima al monte, scusi, cosa serve una funivia in piano? Poi c'è tutta la strada, c'è la ferrovia, dove li mette i piloni, mi scusi, cioè... Paglia, la ferrovia è già risolta, ma tu rompi i binari, li fai scendere e poi... Ma non si può fare una cosa così, ma senta, ma è assolutamente una stupidaggine, scusate. Già, del disagio, la funivia è vostra. Ma tutti i palazzi che ci sono in mezzo, capito? Come dei tunnel, delle gallerie. Come dei tunnel dentro i palazzi. Sì, poi fai i portici, sotto i portici. Ma poi una funivia che va in pianura non l'ha vista mai nessuno, mi scusi, cioè una cosa veramente... Non c'è scritto da nessuna parte che devo essere in attesa. Anche questo è vero, però sarebbe un costo, eccessivo, guardi, questa cosa è la funivia per nostra signora dell'orto, la metterei un attimo da parte. Poverà gente, quelli iniziali. Invece ho visto... Non c'è una funivia. Lo so, ho capito, però non mi sembra il caso. Ma abbiamo visto invece dalle mail che grande, grande successo ha avuto la sua proposta di un autogrill sulla variante di Settembrini. Quella mi sembra un'opera valida, validissima. Io non vedo l'ora di posare la prima pietra. Esatto. E guardi, allora, il crowdfunding... Il crowdfunding, sì. Cioè, la richiesta di finanziamenti su internet. Questa bretella sconsolate grigia in mezzo al verde, così lunga, nessuno mai che si può non è tanto lunga, comunque sì, sì, sì. 1.100 chilometri. Ma non sono 1.100 chilometri, li ho già detto, sono 1.100 metri, c'è una differenza. Comunque è lo stesso, l'autogrill funziona, per esempio, oltre ai prodotti tipici, cosa si può mettere dentro l'autogrill di... Allora, ho già raggiunto, ho stipulato un accordo, una partnership. Una partnership, sì. Con la famosa lotteria nazionale di Arzeno, ci vendiamo i biglietti della lotteria nazionale di Arzeno, perché negli autogrill si vincono sempre, ma... Sì, sì, con la lotteria d'Italia, è vero, si vincono sempre l'autogrill. Primo premio, 100.000 lire. 100.000 lire, ma le lire ormai non si possono neanche più cambiare, hanno detto che sono bloccati anche i cambi alla banca d'Italia, scusi. È un bel ricordo. Ah, un ricordo, cioè una cosa storica, cosa hai capito? Vabbè, vabbè, comunque... 100 euro il biglietto. Sì, 100 euro il biglietto, 100.000 lire il premio, vabbè. La lotteria si chiamava così, 100 euro per 100.000 lire, è bello. È una bella frase. È bello, comunque ricordo l'Iban. L'Iban è... Ecco, esatto, ricordi, scusi, ricordo... Senta, lei beve prima di andare in onda, perché mi sembra un po' accitato. La volta che scelto l'Iban, rito. È lo stesso, lo stesso. Allora, parliamo dell'Iban. Allora, l'Iban com'è? Com'è l'Iban? 1, 2, 3, punto it. È cambiato nuovamente, 1, 2, 3, punto it. Punto it. Comunque fate questo Iban, mandate... Di quanto c'è bisogno? Lei ha fatto un capitolato di spesa per questo Autogrill. Quanto c'è bisogno di questo? Guardi, c'è un bel capitolato ionico, come quello greco. Quelli sono i capitelli. Vabbè, è lo stesso. Grazie, Architetto. Un po' è strappo, eh? Sì, sì, sì. Un po' è strappo, quella della funivia di Chiavari. Sì, sì, vabbè. La pianta, sì, con la funivia di Chiavari la togliamo. Grazie, Architetto. A presto, a presto. La prossima settimana. Io ringrazio anche voi... Ah, è un po' della vuccianda. Basta, abbiamo finito. Grazie, buon fine settimana a tutti. Ci risentiamo e ci rivediamo venerdì prossimo. Grazie. 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 Grazie.